La partita perfetta, dice al termine Alessandro Michieletto, ancora una volta migliore in campo di Unitas che non sente la stanchezza e vola in semifinale Scudetto. 3-0 a Piacenza nello spareggio a soli tre giorni dall'impresa di Champions contro Perugia. Una vittoria, quella contro gli Emiliani, che forse vale ancora di più per maturità, concentrazione e soprattutto il dispendio minimo di energie. Capitan Kasischi è convocato e la sua presenza si fa sentire nel primo set. E' partita vera, poi sale in cattedra l'Ital Trento, guidata da un Daniele Lavia in gran spolvero, che la accompagna fino al break decisivo 25-22. E poi la musica cambia, si fa sentire anche Elisinaz a guidare l'orchestra e Riccardo Sbertoli, che già avvisa le prossime avversarie. Abbiamo fatto tre o quattro di fila e questo ci rende felici, però al top no, perché qualcosina si può sempre migliorare, quindi speriamo di migliorare nelle prossime. Trento sembra pronta a esultare, ma nel terzo set Piacenza tira fuori il carattere di gara 2 e torna ancora in servizio a scacciare i fantasmi. Il match si chiude 25-21, appuntamento ora giovedì contro Civitanova. Avrei firmato per essere qui oggi, dice mister Lorenzetti, che però predica calma. A volte ti girano a favore e non sei un fenomeno, a volte ti girano dall'altra parte e non sei un caprone.